a bella ragazzi sono gabri e oggi siamo siamo tornati per modo di dire perché in pratica oggi siamo tornati con con gare malate che non l'avevo mai portato sul canale mi piacerebbe portarlo e infatti oggi ve lo porto e vabbè comunque scrivetemi voi le gare che ci sono su GTA e se volete partecipare potete io l'ho già scelto però aspettaci c'è pure Ricky ragazzi allora devo fare devo andare dove si continua ah con ferro e poi devo fare il giocatore lo P-Flyer quindi siamo pronti a giocare ragazzi io sono anche pronto a sclerare perché sta serie lo so che sarà subito sclero ragazzi madonna che cazzo è ma siamo in cipa il culo tre due uno go no ma no ma come cazzo fai a sergio eh ma io non intendevo una gara impossibile ma tu sei già ma come fai ad andare sopra regà ma è impossibile salirci su quel robo non so come hai fatto di andare sulla parte rossa io non riesco a salire sopra la roba rossa non riesco a prendere la direzione giusta ma come cazzo ho fatto te ti è presente il cat mario la stessa cosa che ho provato con me uh uh ci sto riuscendo ci sto riuscendo andiamo piano andiamo piano ma regà stiamo riuscendo no ci stavo riuscendo no 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 ecco mi dico cat mario mi pare che dice no no che cazzo è finita non è arrivato regà falla un attimino più semplice la prossima cioè zero perchè è zero vabbè non ho comportato vincitore ricky sto fiodena anche noi zentornina colore lo facciamo un bel bel vergoni vito vado vado a migliorare si vai la lasciamo arancione cantina ok quanto ci fare vai ci sono c'è avercela tu dove sei ah sei di fiamma quindi raga partiamo subito stronzo del cazzo stronzo del stronzo 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 eh come facciamo si fa così porca troia ci sta no ci stai pure riuscendo ma porca troia ciò pure controlle f mezzo scarico Ma no Ma no Ma vaffanculo La streghetta Che cazzo Guardate, guardate Non ci vuole un bel cazzo Sei riuscito Ma no, ma raga Cioè, io sono scannato per queste cose Cioè Ma no Raga, terza sfida Ci becchiamo con la terza sfida Quindi ragazzi Purtroppo la terza L'ho eliminata io Di spontanea volontaria Ma perché? Perché era troppo lunga E anche annoiante Veniva tipo un video da 15 minuti E anche l'ultima Era troppo annoiante Comunque spero che il video vi sia piaciuto Lasciamo un like per continuare questa serie E passate al canale del grafico Che è veramente parissimo Passate dalla pagina di Facebook E dalla pagina di Instagram Bella Ciao Ciao Ciao